Antonio Balzano si toglie la fascia da capitano del Pescara e si prepara a seguire Zeman al Cagliari. Non è stata una buona notizia per il Delfino che perde così uno dei protagonisti della storica stagione della promozione in Serie A, nonostante gli sia stato proposto il rinnovo del contratto dei Biancazzurri. Lo stesso Balzano l'ha definito una decisione sofferta. Abbandonare la città e la società che ti ha lanciato come giocatore infatti non è mai facile. Il terzino però non ha resistito alla chiamata della massima serie, un'opportunità che si sente di sfruttare in questo momento della carriera, anche con il rischio di essere etichettato come un mercenario dai tifosi pescaresi. E intanto comincia a muoversi il mercato e arriva il primo colpo per quanto riguarda il reparto difensivo. I Biancazzurri infatti hanno praticamente definito l'ingaggio di Emanuele Pesoli, 33enne difensore ed ex capitano del Carpi che nelle prossime 48 ore sarà ufficializzato dal Delfino. In teoria il giocatore verrà fatto firmare un contratto biennale, prima però dovrà mettere a posto le ultime pendenze con il Carpi e rescindere il contratto. Gli emiliani non dovrebbero porre resistenza e il difensore già da lunedì prossimo potrebbe essere a disposizione di Marco Baroni. Un altro colpo di mercato è quello che riguarda il terzino classe 92 ex L'Aquila Andrea Scruglio, che con molta probabilità sarà girato in Lega Pro. Ieri sera poi c'è stato un lungo vertice tra il DS Pavone, il direttore generale Repetto e Mario Giuffredi, l'agente di Musa Conè. Pare che la trattativa per riportare il rival adriatico e il centrocampista evoriano sia a buon punto, prima però Conè dovrà firmare il rinnovo con l'Atalanta, società proprietaria del cartellino.